Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube oggi vi porto la review di Kostas Manolas Footbird Day che è uscito alle 19 la sua versione appunto SBC e possiamo andare subito a notare che ha ricevuto un boost per quanto riguarda le stelle piede debole ma come andremo a vedere dopo questo poco ci importa per diversi motivi 1.89, basso-alto il workrate quindi perfetto per un difensore centrale ma direi di andarci a inerpicare nei dettagli di questa carta in quanto vediamo per quanto riguarda la velocità 85-88 veramente notevole per un difensore centrale credo che sia tra i difensori centrali non ha icon più veloci perché a memoria ricordo che Varane è probabilmente un pelo più veloce Stomanolas è forse più veloce di Militao Road to the Final molto probabilmente forse è anche Tolto e probabilmente quindi sicuramente la velocità è un attributo notevole vabbè per quanto riguarda statistiche di tiro del buon Costas non le andrei neanche a commentare quello che rende praticamente inutili le 5 piede debole sono le statistiche di passaggio 71-72 che non sono propriamente eccezionali voi direte ok benissimo con un difensore centrale non è che vado a fare questi grandi passaggi insomma però il 5 piede debole se da un lato insomma poco serve dall'altro comunque aiuta che visto che Manolas notoriamente abbia i piedi un po' incrociatini almeno con il 5 piede debole quando si trova sul piede opposto a dover fare un passaggio potrebbe andare a sopperire a quelle che sono già delle statistiche un po' un po' scadenti per quanto riguarda agilità abbiamo 75 per quanto riguarda la reattività un po' me 66 reattività 91 e tanta roba unitamente a una freddezza 94 questo giocatore qui io vi dirò l'ho provato per quanto riguarda la sua versione NIF su Road to Glory e vi devo dire la verità che è un giocatore che mi è piaciuto perché questo qui a livello difensivo è molto solido e quando andate a temporeggiare con l'L2 che sapete tutti ormai che è il metodo migliore per poter andare a difendere aggredisce in maniera pazzesca gli avversari è grosso, si attacca essendo tanto tanto aggressivo 92 e in più scivola anche abbastanza rapidamente non è così piantato per terra statistiche difensive poi eccezionali intercettazione 91 precisione testa 84 lettura difensiva 92 contrasto in pieni 92 scivolata 94 elevazione 92 resistenza 77 forza 88 aggressività 92 pongono sicuramente Manolas nella posizione di essere ritenuto credo il miglior difensore in circolazione per quanto riguarda una serie A difficilmente voi ve lo potete andare a dibridare in altre situazioni a meno che non avete un terzino Icon o un terzino di serie A e un DC Icon e un portiere Icon insomma sto Manolas rischiate di ritrovarvelo a 7 però sicuramente se avete una serie A questo secondo me va sbloccato tipo subito a meno che non abbia un prezzo esagerato che non ho ancora guardato lo guardiamo insieme allora vuole una Rosa 84 e una 85 ma vi dirò sto Manolas costerà sui 150 credo e penso sia un prezzo veramente veramente accessibile per quello che vi torno a dire sicuramente il top difensore in serie A ovviamente un bello stile intesa ombra neanche a dirlo o potreste anche andarvi a mettere un catalizzatore per migliorare i passaggi sapete provare anche se insomma sappiamo tutti che gli stili intesa non è che danno quel boost che si vede in realtà sui vari footbin eccetera e nulla quindi vi ripeto questo qui per me se avete una serie A è sicuramente l'upgrade che fa al caso vostro lo vedo bene sia vicino a un Juan Jesus sia vicino a un a un Luis Felipe Futustar o che so un Romagnoli Scream insomma queste sono le carte in serie A che in difesa più fanno la differenza e Stocosta si è arrivato in maniera prepotente a rivendicare il suo titolo di miglior difensore in circolazione perché insomma come vi ho detto la carta parla per sé tra l'altro fan fact ora che sto registrando questo video sono passati due anni da quando il buon Manolas l'ha insaccata di testa contro il Barcellona tra l'altro era allo stadio quanti ricordi va bene finiamo questo amar cord se no mi scende la lacrimuccia quindi che dirvi in conclusione Manolas consigliato se avete una serie A pure se avete possibilità di ibridarlo anche perché non è che a quanto pare costa tanto avrete sicuramente roba nel club quindi secondo me lo andate a pagare sui 100k oppure meno probabilmente e vi portate a casa quello che per me ad oggi è il miglior difensore di serie A e nulla io vi saluto vi do appuntamento in live su Twitch dalle 12 alle 16 come sempre e vi comunico che in questi giorni ho programmato alcuni video significativi in cui rispondo a quelle che sono le principali domande che mi fate in live su Twitch e è nulla ho schedulato video più o meno fino a martedì al momento quindi avrete contenuti da tutte e due le parti e io vi saluto vi do appuntamento qui a un prossimo video peace ciao ciao